Charlie, i limiti della scienza e dell'uomo, le porte aperte e la speranza di chi crede, la straordinaria emergenza immigrati, non si può più continuare ad improvvisare, il volto duro della Francia, i blindati dell'Austria al Brennero, le presunte storie di pedofilia nella chiesa, le testimonianze di preti veri, Chiara Pendino indagata per piazza San Carlo e la prima pagina della Voce il Tempo, un impasto dei grandi temi che stanno turbando l'estate italiana, estate torri da allarme anche a Torino e Piero Bianucci ci ricorda quando eravamo tutti ambientalisti, ma subito la finestra sulla città dove finalmente arrivano i primi soldi per le periferie, andranno a strade e scuole boccheggianti, ma non solo, l'esempio di settimo, la grande estate degli oratori che accolgono migliaia di ragazzi, a Mappano l'oratorio Il Sogno di Emanuele, Valle Sauiuglio organizza il torneo per una frazione di trofarello, sono gli oratori in uscita, a Benaria centri estivi per una città ecologica, l'input di nuovo dagli oratori, che cosa succede in America Latina, dal Venezuela alla Colombia, che cosa succede nelle comunità cristiane in Medioliente ed Africa, tra tentati e persecuzioni, i grandi d'Europa che se ne vanno, Simone Weil e Cole e la sordità degli attuali leader, il ricordo di Paolo Villaggio. Le notizie della comunità, parla il Cardinal Severino Poletto, prete da 60 anni, a Nostra Signora della Salute di Borgo Vittoria, il concorso nazionale Tutti per Tutti, dalla provincia Mappano Comune finalmente insediato il primo consiglio. Autostrada Asti Cuneo potrebbero riaprire i cantieri. L'annuncio del ministro del Rio nel 2018, dopo l'accordo con la Commissione Europea, si prospetta la ripresa dei lavori nel tratto tra Alba e Cuneo. Alluvione Moncalieri dopo otto mesi arrivano finalmente i primi rimborsi ai cittadini. La voce e il tempo, l'altra voce di Torino.